Cosa non ha funzionato oggi contro Mota? Come abbiamo visto tante cose, secondo me soprattutto le nostre ricciocate. Abbiamo avuto tante opportunità in controattacco, però non abbiamo messo giù la palla. Lì dobbiamo migliorarci, soprattutto anche io non ho fatto bene questa cosa oggi. Vi aspettavate di incontrare tante difficoltà? Sì, sapevamo che loro hanno una fase break alta e come oggi abbiamo visto hanno difeso tanto, hanno toccato tanto e per noi era difficile. Questo comunque sarà un anno così, di fronte sempre squadre piuttosto rognose? No, secondo me possiamo fare molto meglio. Dobbiamo solo pensare a fare meglio e allenarci ancora.